Grazie a tutti. Non gioco più, è la canzone appunto degli alti bassi che va e buongiorno a voi, non vedevo l'ora, ci siamo e c'è quasi da montarsi la testa a leggere i numeri di mangia con me, pensate che dal lancio dell'iniziativa il 13 febbraio avete risposto in mille, ma ce la faremo perché abbiamo due grandi esperti che lavorano con noi e per noi. La dottoressa Paola Reverso, buongiorno, medico nutrizionista, presidente dell'associazione Il Me Piute, il nostro dottor Filippo Ongaro, vicepresidente dell'associazione Medici Italiani Anti-Aging, buongiorno dottore. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Intanto io vi ricordo che il nostro questionario è sempre a vostra disposizione, scrivetevi, compilate il questionario e potreste essere selezionati e partecipare come protagonista in diretta a Mangia Con Me ed essere seguito dai nostri esperti, proprio come è successo al nostro primo partecipante. Gli alti e bassi però di cui parlo io sono un quintetto vocale a cappella che ha partecipato alle più importanti stagioni concertistiche, classiche jazz, festival internazionali, trasmissioni televisive radiofoniche in Italia e all'estero. E per te, come per tutti i nostri prossimi partecipanti, gli alti e bassi hanno pensato ad un brano che ti rappresenta. Tu dovresti prenderlo, almeno questo noi ti proponiamo e vorremmo che accadesse, di prenderlo un po' come una sorta di colonna sonora del tuo cambiamento. Qui, eh, ti piace? Interessante, vi ringrazio, sì. Senti, qui con noi c'è Andrea Thomas Gambetti, che è uno dei cinque. Buongiorno a Nicoletta, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Andiamo a sentire che cosa avete scelto per lui? Andiamo. Mi do la segna. No, è vero. No, è che io. No, la faccia vincenente. Io cambio il video, non cambia, resta la porta. Non gioco più. Non gioco più. Non gioco più. Lo lascia stare. Sì esatto, è bellissima Non gioco con me ma ti assicuro Se ti faccio male Poi ti passerà Tanto il mondo come brida Senza voglia girerà Davide puoi scaricartela Te lo metti nel tuo ipod intanto che fai attività sportiva Riprendi a farla Ma sentiamo da Andrea Perché avete scelto proprio non gioco più? Sì la dedichiamo a Davide perché Lui si è svolgato la caviglia Quindi a un certo punto non è riuscito più a svolgere l'attività sportiva Quindi non gioca più Ma la frase che più ci ha colpito della canzone Nel nostro brano è Io cambio e chi non cambia Resta là Che è una frase molto indicativa Perché rappresenta proprio la voglia La necessità di dare una svolta Di ottenere un cambiamento Ed è una cosa che Volendo è assolutamente realizzabile per chiunque Basta deciderlo Basta deciderlo Basta veramente voltare pagina E quindi dedichiamo a Davide Non gioco più per questa ragione Davide? Vi ringrazio Sarà il mio mantra Davide 800 24 00 24 Mercati E poi ascoltiamo il programma Che il dottor Confalonieri ha pensato Per rimettere in moto Davide A tra poco Essere e benessere Davide è il protagonista Il primo protagonista di Mangia con me Cambia Ha deciso di cambiare Di affidarsi ai consigli Dei nostri esperti Stiamo sentendo Il brano Che gli alti e bassi Hanno scelto per lui Come colonna sonora Del suo cambiamento Qua con noi abbiamo Andrea Tra l'altro Voi cantate senza strumenti Sì Quello che state ascoltando È solo Le nostre cinque voci Non c'è alcun strumento Anche la batteria Il basso Sono realizzate con la nostra voce Grazie a tutti